Non so se me la sento di combattere, signor Freezer. Chico, quando ti ho raccattato dalla strada sul pianeta degli insetti, ho visto una scintilla in attesa di infiammarsi. Io non ne sono sicuro, signor Freezer. Il punto è che combatto solo se mi arrabbio. Interessante. Salve, Lord Freezer. Rolly è pronto a co... Rolly! Tuo padre è morto tragicamente! Che? È il mio papito? Porchè? E adesso vai su quell'arena e fagli vedere chi sei! Rolly! 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 Mado di Dio! Rolly! 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 Come on! Tu farai tanta strada, Kid! Tu farai tanta strada... Iscrivetevi a questo canale! E anche a quello di Dait时候 Nancy, il creatore del video! E cliccate sui video consigliati E G-Live mi sono fatta patta bua